Faccio come i fighi, ore 18.45, Ortona, Abruzzo, VSK Final Cup. Per quanto riguarda la KZ, dopo la giornata di Manche, tre Manche, una dopo l'altra, che determinano appunto la griglia di partenza della prefinale di domani, la situazione è questa, ci si gioca tutto in casa, Tony Kart e Praga, con due piloti, diciamo, abbastanza da sorpresa, nel senso che Patrick Hayek, il pilota privato, tutto sommato, è il rivenditore della Repubblica Ceca, della Tony Kart, che col suo Tony Kart Vortex è là davanti a tutti, e poi alle sue spalle c'è Buzz Lammers, sorpresa perché? Perché semplicemente ha cambiato colori, è passato a quelli Praga, della cugina Praga da quelli intrepide per questa gara poi l'anno prossimo. Chissà, in ogni caso, sta di fatto che i due, se la sono giocata fino all'ultimo, devo dire, anche con un discreto vantaggio sugli altri. Poi ci sono altri Tony Kart, molto in palla, quello di Marco Ardigò, che ha avuto qualche problema nella partenza dell'ultima manche, di conseguenza non si è potuto giocare la vittoria anche nell'ultima manche, e poi ancora quello di Drezen, che parte dal fondo purtroppo per lui, ma i nomi importanti sono anche altri, ad esempio quello di Roberto Toninelli, in quarta posizione, dopo le manche appunto di qualificazione. A seguire Zanchetta, bravissimo, è un'annunziata con il Formula K, che è stato veramente una sorpresa. Poi c'è Mirko Torsellini, strepitoso, partiva questa mattina dall'ultima posizione, manche dopo manche ha recuperato, lo vediamo appunto in settima posizione. Armandino conversa, anche lui si è recavata bene, benissimo, anzi direi ottava piazza, dicevamo Ardigò terzo, e via via tutti gli altri. Un Zanchetta, che devo dire, è molto redditizio, secondo me quelli che si possono giocare la vittoria sono Hayek, Lammers, Ardigò, ci butto dentro anche un Torsellini e probabilmente anche un Converse. Sono questi un po' i nomi, Drezen, come dicevamo, partirà da dietro, ventunesimo dopo una serie abbastanza sfigata di manche. Bisogna dire che comunque tutti viaggiano molto serrati, molto uniti, il distacco è di un secondo tra il primo, magari il dodicesimo e il tredicesimo sul tempo sul giro, quindi direi una gara molto serrata, prima classifica che se ne va. Poi andiamo in KF2, ma dopo la raccogli tu, non ti preoccupare. KF2 con Alberto Di Folco, qui direi abbastanza di casa, seguito da Orusev e poi Tang col Cosmic, una bella sorpresa. A seguire Olsen e Stefano Cucco, ancora Antonio Fuoco e Pedro Ilbrand. Io devo dire che di questi, i primi 5 o 6, tutti, tutti se la possono veramente giocare per la vittoria, ma anche la Tiffes ha fatto benissimo in alcune manche, poi su Ninan anche lui, Fioravanti, come non dire Spinelli. Voglio dire, ci sono situazioni aperte assolutamente in KF2, dove bisognerà vedere appunto domani cosa dirà la sorte, soprattutto anche in merito al tempo. Lancio anche questa cartaccia in giro, tanto per raccogliere Onni. A seguire, vieni, vieni qui in 60 Minia, in 60 Minia più che mai combattuta con Travisanutto e Dionisios là davanti, davvero entrambi in vena di vittoria. Poi Guven, Stura, Besler e Monger, io butto dentro veramente anche Monger per la vittoria, ma poi c'è Martinez, piuttosto che Machado. Sono questi qui i nomi veramente che si giocano il successo per quanto riguarda la 60 Minia, la prefinale e la finale di domani. ultima, ma non ultima, classifica quella della KF3 con Karpov un po' sorpresa, questo Kiril Karpov, chi è Kiril Karpov? Kiril. Kiril, Kiril, dalla Russia con un bel pilotino, sicuramente con una bella mamma di solito, le russi di solito, belle milf di solito. Belle milf. Cosa dice il Premier? Che la patonza deve girare. Deve girare, deve assolutamente girare. Nonostante la Merkel non sia d'accordo, rida, però comunque. La Merkel, che mi rendo conto che la Merkel non possa far girare della patonza, perché con tutto il rispetto non vorrei creare un problema sull'asse Roma-Berlino, però francamente, cioè, la patonza è un'altra cosa. Sta di fatto comunque che Karpov, con la sua coppiata Toni Karte, BMB abbastanza curiosa e insolita, del team Karpov, passa pure quando vuoi, non è un problema. Si è messo dietro tutti davvero, anche Alessio Lorandi, Vasily Romanov, Niklas Nilsson, Vivacqua, i nomi comunque interessanti sono anche quelli di Russell, per dire Leclerc un po' più indietro, il fresco vincitore della Coppa del Mondo, un po' più indietro rispetto a quanto ci si poteva aspettare, un Alessio Piccini, insieme a Mattia Vita, forse delle sorprese per quanto negative nella classifica intermedia, sono appunto fuori dalla fase finale della gara, un lancest roll che tutti tengono d'occhio, che si trova però in ventitresima posizione, quindi una situazione abbastanza delineata, con veramente i primi, quindi dei toni, un energy, un altro energy, lì davanti che si giocherà una vittoria insieme all'intrepidissi, probabilmente di George Russell. Per la vittoria ci mettono anche Makino Tadasuke. Tadasuke non è male. Decimo, decimo, Makino Tadasuke, lui è un bel pilotino. Un jump di quelli che va, adesso io becco il suo padre che è grosso come quel bilico lì, e ti fa su come un involtino, ma davvero primavera, direi. Primavera.